Un ex dipendente Bungie ha commentato l'annuncio ufficiale che Halo Studios utilizzerà Unreal Engine 5 per i prossimi progetti e giochi di Halo. Ed è davvero interessante quello che ha riferito. Marcus Lito viene definito come uno dei papà di Master Chief e ha anche accennato al fatto che forse non sarebbe proprio una cattiva idea produrre un remake di Halo CE. Non sembrerebbe tanto lontano dalla realtà, soprattutto considerando l'armatura dal design classico e il mondo stesso visto nel trailer di presentazione del nuovo progetto. Sembra tutto indirizzato verso un possibile remake di Halo, che potrebbe uscire nel 2026, ossia all'anniversario di Halo CE. Marcus Lito, come detto poc'anzi, è il padre spirituale di Master Chief. È qualcuno che è diventato art director per Halo CE 2 e 3. Ha dato un contributo fondamentale, è praticamente un co-creatore dell'universo di Halo, quello che amavamo e a cui tenevamo davvero ai tempi della Bungie, giusto? Ryan McCaffrey, senior executive editor in IGN, fece risaltare la sua opinione già da giugno, quando le voci di un possibile remake stavano circolando. Voci che sarebbe stato un remake completo con nuova timeline e cose del genere, probabilmente con un sacco di novità, incluso il multiplayer. Ma Ryan scrisse che per lui sarebbe stato ridondante. Non capisco perché lo pensi davvero. Allora Marcus Lito si è fatto e se reintegrassero missioni tagliate, armi, personaggi e elementi della trama insieme a meccaniche di gioco più moderne che migliorino il gameplay, rimanendo fedeli all'originale? Un sogno! Marcus ha commentato altresì l'annuncio recente, dicendo che è bello vedere volti nuovi e noti costruire il nuovo team di Halo. Chris Matthews è una scelta eccellente per lo studio e le aspettative sembrano fantastiche. È tutto in divenire. Lo studio è ancora alla ricerca di tante figure specializzate nel settore, per completare il team. Non sappiamo ancora nulla se il nuovo progetto possa portare verso un altro open world. Praticamente siamo ancora nella fase di ricerca, fondamentalmente. Sempre nei commenti in X qualcuno scrive che sarebbe bello vedere qualche OG nel team, letteralmente old gangster, qualcuno della vecchia scuola per intenderci, a livello di Joseph Staten o addirittura di Marcus stesso. Marcus risponde al commento, riferendosi ad un minuto specifico del fatidico video, quando Pierre Ince, studio head in 343, spieghi perché lui o altri OG probabilmente non saremo mai considerati per aiutare, sebbene sarebbe d'accordo che Halo avrebbe davvero bisogno di fare determinate scelte per andare avanti. Cambiamenti importanti in arrivo. Halo Infinite era l'ultimo pezzo di come facevamo i giochi di Halo in passato. Quella era la nostra ricetta e adesso stiamo cambiando quella ricetta. In sostanza, hanno detto che stanno modificando il modo in cui fanno i giochi di Halo, il che è emozionante in un certo senso, perché è ufficialmente 343 a dirlo, anche se adesso è praticamente un'azienda completamente nuova. I dirigenti che hanno prodotto Halo 4, 5 e Infinite non ci sono più, ma penso che... Marcus sta un po' esagerando con lo scetticismo, secondo me. Spero che siano aperti a integrare gente old school, almeno per aiutare nello sviluppo. Marcus risponde anche ad un commento che chiede se Chris Matthews, nuovo direttore artistico dello studio, sia uno della vecchia guardia. Marcus risponde ovviamente no, ma che Chris è stato il suo direttore artistico allo studio a Ridgeline per Battlefield e di come sia un ragazzo fantastico. Quindi, anche se non abbiamo specificamente Marcus Lito o altri vecchi di Bungie che lavorano sul nuovo progetto, è bello avere la sua approvazione. Forse sta solo cercando di essere gentile, ma è positivo vedere che qualcuno che sta plasmando quello che lui stesso ha creato in passato è entusiasta del lavoro sul prossimo gioco di Halo. Alla fin fine abbiamo solo assistito ad una demo tecnica, ma questi assets, dicono, verranno usati in progetti futuri. Quindi per me è davvero emozionante. Non significa necessariamente che quest'area verrà usata, ma sembra proprio la missione di Combat Evolved sull'Anello. E se missioni tagliate a armi e personaggi e elementi della trama fossero presenti, cosa ne pensate di un remake di Halo fatto da zero, con gameplay molto diverso, ma anche per certi aspetti simile? A me piace un sacco come idea, migliorare il gameplay rimanendo fedele all'originale. Come si fa? Penso che dovrebbero chiamare Marcus e chiedergli come diavolo si fa in modo che i fan lo apprezzino. Fatemi sapere. Ci vediamo presto. Axios!